Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Centro 4 a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo intrappolato la dominatrix in un unico corpo solo che non sappiamo dov'è Andiamo a scoprirlo Bella domanda Oddio Eh No E' certo Ciao Kinsey Ok Ok Parla con Dom E oddio non l'avevo mai vista la prima volta Quello è il trono di spade di carne Altro che guardalo com'è fiero lui Ciao Certo Cosa abbiamo addosso Ehi pelucino Vieni qui Aspetta Ti posso Oh E' dentro Perfetto Ecco fatto Direi che Anche se li buttiamo tutti in un'unica gabbia Non c'è nessun tipo di problema Vero Tu Vieni qui Preso in pieno Aspetta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qui E per fortuna In tutto ciò Dov'è Scusami Dove cavolo è il tizio Ah eccolo Era dietro il muro Se solo riuscissi a prenderlo però magari Eccoci qua Vai Dentro la gabbia Sì signore È solo una simulazione È la stessa animazione Dell'altra volta Con la porta Questa No è Zimus Zimus Is that you Zimus Oh no Cos'è quel panda Comunque quel vestito è bellissimo Che può essere preso in tutti i due modi Sia che lui lo fa Sia che lui lo riceve Ehi Ho soddisfatto il cliente È stato bellissimo Anche se è durato veramente poco Eccolo lì Eccolo lì Sì signore Elimina la concorrenza Dove siete Dov'è 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 Ecco fatto Finchè posso Smaterializzarli Direi che Non ho nessun tipo di problema No Zimus Scusami È da tanto che non ti vedo Ecco fatto Eh sì Credo Che tu te lo meriti Signorina Dov'è il prossimo Tra l'altro Questo posto è bellissimo Cioè Come struttura L'hanno fatta Veramente bene Ehi Dove sei Ecco fatto Ne manca Solo uno Dove ti nascondi Maledetto Maledetta Aia Dai zitta E non far fuggiare Ti prendo A cazzate in faccia Mi faccio tanti problemi io Sappilo Ok Ho eliminato la concorrenza Direi che è il momento Di fare questa gara Sì signore Aspetta Aspetta Come è sopravvissuto Quello Ecco fatto E la madonna Aspetta Usiamo il minigun Dai E' il momento Di fare fuori Un po' di stronzi Vecchi stile Con le armi pesanti Aspetta Usiamo Dove sei? Ecco fatto Sconfiggi il Dom E' stato facile Oh no cos'è? Zimos si torna in sella Povero Povero Zimos Fammi vedere che armi ho Usiamo questo E' contro il mio contratto Ma aspetta Io ho visto delle ruote Sotto quelle gambe In quella Guarda Non commento Non vedo Dai Devo distruggervi tutti E' uno degli obiettivi Forza Zimos Vorrei vedere però Cosa dicono Effettivamente Guardalo che c'è Le ruote davanti Che si vedono Santo cielo Meno male che ho potenziato Quest'arma al massimo Sì ma il traguardo dov'è? Giusto per sapere Non per altro Altra gente a cui sparare Non ce n'è? Mi sto divertendo io Sappiatelo Dovrei avere un frustino Guardalo che si vede Una ruota Dio mio Ecco qua Vieni fuori Ah pensavo che era il Klaxon Invece era la voce di Zimos Sicuramente tesoro Sicuramente Yes Distrutti tutti Con un'arma potente come questa Voglio dire Chi non ce l'avrebbe fatta Yes Vittoria Vittoria Alle corse Completata 5000 dollari Poppocchini Amico Zimos Amico Dom Completo sculacciami Perché Estremamente raro Estremamente Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti